Il Convitto Palmieri è considerato un polo culturale di alto livello per tutta la provincia di Lecce, grazie anche agli innumerevoli servizi che offre al pubblico e che si diramano in tutti gli ambienti della sua struttura. L'intero complesso architettonico del Convitto Palmieri si sviluppa su tre lati a ridosso della bellissima piazzetta Gioese Carducci, al centro della quale è presente la statua a mezzo busto del poeta toscano. La facciata del Convitto è davvero sontuosa con uno stile dorico che ricorda i grandi templi ellenici della Magna Grecia, almeno nella sua sezione centrale. Il Convitto Palmieri fu realizzato nel 1273 insieme alla diacente chiesa di San Francesco della Scarpa e inizialmente aveva la funzione di convento francescano. Fu per opera dell'Ordine dei Gesuiti che il Convitto assunse un'importante funzione educativa, ospitando differenti scuole e istituti di formazione. Solo nel 1865 il Convitto venne intitolato a Giuseppe Palmieri, noto economista salentino.